Carissime amiche, carissimi amici di Rosioni TV, buona serata a tutti, benvenuti in questo speciale che vi illustrerà il Centro Margherita di Fano. Di cosa si tratta? È una casa destinata ai malati di Alzheimer. È una struttura straordinaria, una struttura come potete vedere davvero molto moderna, accogliente, con alle pareti addirittura i disegni, le realizzazioni grafiche fatte dagli ospiti del Centro Margherita. È un'eccellenza a livello nazionale, davvero è un punto di forza della cooperativa Labirinto, sempre presente con i suoi servizi, attenta a tutto quello che avviene dal punto di vista sociale sul territorio. La nostra cooperativa lo gestisce nelle sue diverse sedi già da quasi 20 anni e ha avuto un percorso itinerante per alcuni anni passando da una sede in zona Porto, qui a Fano, poi ad una a Rosciano e dal fine del 2013 ci troviamo in questa bellissima sede costruita appositamente, per la prima volta progettata appositamente da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. È un centro che può ospitare ed è autorizzato fino a 40 persone. In questo momento è convenzionato col servizio sanitario regionale per 18. È per questo che è stato pensato il centro, perché potesse accogliere non solo la persona con una patologia che gradualmente cambia i bisogni di quella persona, ma perché potesse accogliere anche la famiglia. Il centro appunto nasce con questa volontà, nasce anche perché all'interno del centro si possano attivare tutte quelle che sono le possibilità per la persona stessa di rimanere all'interno di un contesto sociale gratificante, perché la malattia porta sempre tanta frustrazione nella persona, perché non ha più delle capacità a livello intimo, poi capisce e percepisce questa perdita progressiva e ha bisogno di essere rassicurata. Quindi in questo senso gli spazi sono rassicuranti, le persone e anche i programmi, i progetti devono essere rassicuranti. Noi li definiamo protesici, ossia completano quello che la persona non è più in grado di fare. L'accesso a questo centro può essere doppio, nel senso che noi abbiamo dei posti privati, per cui la famiglia può rivolgersi direttamente qui al centro, ma quello che noi consigliamo è comunque di arrivare attraverso una valutazione di uno specialista e attraverso gli uffici preposti dell'ASUR, nel particolare il CDCD, che è il centro disturbi cognitivi e demenze, che attraverso una valutazione stabilisce non solo il livello di impatto della malattia, ma anche l'idoneità o meno a frequentare questo centro. Eccoci qui con Paolo Ruffini, che è arrivato a Fano a visitare questo centro Margherita. Paolo Ruffini conduce un programma radiofonico che si chiama Numeri 2. Al di là dell'aspetto che è su Radio 2, però credo che ci sia un'attenzione a questo concetto. Non è così importante sempre essere i numeri 1? Sì, nel senso che tutto sommato i numeri 1 si portano dietro una responsabilità. I numeri 2 molto spesso si divertono di più. Vengono ricordati, cioè i Maneskin non sono arrivati i primi, Toto Cutugno è molto più famoso di altra gente che è arrivata sempre prima a Sanremo. C'è un grande vantaggio di essere i numeri 2, come secondo me c'è un grande vantaggio anche a volte essere gli ultimi. Io spero di non essere blasfemo, ma non tutti gli ultimi vogliono essere i primi. Anzi, io trovo che siano molto più simpatici gli ultimi dei primi e credo che anche gli ultimi abbiano diritto ad avere anche la loro integrità e il massimo di rispetto. E tu l'hai dimostrato con i tuoi film, con il tuo impegno, con quello che hai voluto proprio riprendere, con il tuo Perduta Mente, che in realtà è un titolo dal doppio significato che è davvero molto toccante. Sì, è un film che in realtà è un documentario sull'Alzheimer, che non è divulgativo, non è un documentario attesi, ma raccoglie soltanto delle storie d'amore. In realtà non è un film sull'Alzheimer, è un film sull'amore. Io non so chi sono, io non so chi sei, ma ti amo. E trovavo che ci fosse una forma lirica di romanticismo feroce dietro queste esternazioni. E quindi ho fatto una raccolta di 15 storie su Instagram ed sono arrivate 15 storie d'amore che non prevedevo. Insomma, io pensavo fossero due vecchietti, no? Di raccontare le storie di due anziani che si amavano. Invece no, ho capito che c'è tutto un mondo dietro, c'è un'inesurabilità, però c'è anche questa cosa straordinaria che dà una grande speranza. L'Alzheimer è un morbo che prende gli organi partendo dal cervello, ovviamente sono tutti legati al cervello, tutti gli organi che abbiamo. Però non trova l'amore. E questo è un grande vantaggio, vuol dire che l'amore non lo può attaccare. E allora ti viene da apprezzare che forse non si viene al mondo ma neanche tanto per vivere, ma per amare sì.